Ciao a tutti amici, oggi proviamo a stressare con un AnTuTu Benchmark, lo Xiaomi Redmi 4A che monta una CPU Snapdragon 425 con frequenza di clock a 1.4 GHz una GPU Adreno 308, 2 GB di RAM e 16 GB di ROM espandibili tramite microSD fino a 256 GB Inoltre aggiungo che questo video lo sto girando proprio dalla fotocamera frontale del Redmi 4A una fotocamera frontale da 5 megapixel che può girare video in HD a 30 frame per secondo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti